Sì, l'ho voluto ricordare, l'ho voluto sottolineare perché ho vissuto da sindaco di questa città il dolore di quelle famiglie che non potevano concepire, direi giustamente anche, quello di non poter dare l'estremo saluto ai propri familiari. Purtroppo i decreti più rigidi non consentivano neanche lo svolgimento dei funerali e a Castiglione Fiorentino questi casi si sono verificati. Da qui nacque l'idea di inserire in una lapide all'ingresso del cimitero monumentale del capoluogo tutti coloro che nell'epoca della pandemia, l'anno 2020, non hanno avuto neanche un funerale. Non a caso credo che anche i decreti successivi, pur nelle restrizioni, hanno consentito con limitazioni quello che era necessario però di far funerali. In quel periodo neanche quello. Ecco, io credo che una città non può essere e non poteva essere indifferente rispetto a questo dolore che ha coinvolto troppe famiglie. E mi auguro proprio che tutto questo non possa mai più verificarsi.